Nella scorsa parte Sanji è stato prelevato da Capone e scortato fino a Totoland, l'arcipelago dove si nasconde l'imperatrice Big Mom, una cicciona gigantesca e psicotica che ha sempre fame e vuole dare il nostro cuoco preferito in pasto a... cioè volevo dire, in sposo a una delle sue figlie, Pudding, che essendo una bella ragazza degli anime è una tipa anche molto gentile e comprensiva, tanto da rinunciare a Sanji e addirittura aiutare la sua ciurma a recuperarlo consegnando loro una mappa. Arrivati a Wall Cake Island, una mega isolona fatta di torta alla panna che mi fa venire l'iperglicemia soltanto a guardarla, Brooke e il giaguaro Pedro si infiltreranno di nascosto per cercare di fare una copia del po' negrif rosso in possesso di Big Mom, mentre gli altri andranno a cercare Sanji e lo troveranno subito. E ti piacerebbe! Però è soltanto un finto Sanji che si farà rincorrere un po' nel bosco per allungare il brodo, mentre il vero Sanji è a casa sua, nel regno di Germa, a incontrare la sua famiglia e in particolare a combattere contro suo padre, perché in quanto criminale, bastardone, usurpatore e tanto per cambiare padre di merda, lui non lo accetta e non vuole più avere nulla a che fare con la famiglia. E quindi parte un breve flashback di Sanji e il suo passato, gonfiato e umiliato. E nonostante suo padre assomiglia a un Super Saiyan di terzo livello, non ne ha i poteri, così vigliacamente lo attacca facendosi scudo con i propri uomini e Sanji esita proprio all'ultimo, finendo sconfitto. Sarà quindi costretto a sposare la figlia di Big Mom e agevolare a livello strategico militare la sua famiglia, unendola a quella della cicciona squilibrata, che scopriamo essere una sorta di super comunista che vorrebbe unire tutte le razze in un'unica giga famiglia attorno a un tavolo per gozzovigliare tutti alla pari. E infatti è una psicopatica. Per farlo intendeva sfruttare la scienza di Caesar per ingigantire la sua famiglia, letteralmente, ma essendo lui un coglionazzo si è speso tutti i soldi in baldracche e super alcolici, perciò dà la colpa dei mancati risultati a cappello di paglia ai suoi. Fra l'altro questa Big Mom ha dei poteri assurdi, ha mangiato il frutto soul soul e quindi può estrapolare dal corpo l'anima delle persone e manipolarla a suo piacere. Infatti per vivere a Tottoland bisogna pagare pegno e lei manda in giro suoi uomini a raccogliere mensilmente porzioni di anime dai suoi abitanti, per poi ridistribuirle nel paese e dare vita anche a tutti gli oggetti inanimati. Questo chiaramente accorcia un po' la durata della vita degli abitanti, ma in fondo chi se ne frega? E se va bene a loro? Buona camicia a tutti! Parte della ciurma intanto. Nel bosco delle tentazioni dovranno affrontare il bosco stesso, interamente composto da alberi, fiori e dolciumi viventi, ma dovranno vedersela anche con alcuni sottoposti nonché figli di Big Mom, come la vecchia brulè e la sua dimensione degli specchi, o uno dei suoi tre generali, Cracker, anche se è palesemente fatto di biscotti. Boh, ad affrontarlo sarà Ruffi, in uno scontro non facile, perché Cracker può aumentare a piacimento i propri arti, e le spade da dove le caccia fuori, scusa, le caga. Inoltre sa usare tutte le ambizioni, non a caso vale più di 800 milioni. Ruffi allora per sconfiggerlo ricorre al ridicolo Boundman e lo sbriciola come un biscotto nel latte a colazione. Si scopre però che quella era soltanto un'armatura di biscotti, ma il vero Cracker è ancora vivo e vegeto. Avendo mangiato il frutto Bisco Bisco, può creare dei biscotti e poi usarli per creare qualsiasi altra cosa a suo piacimento. Eh vabbè. Verrà sconfitto dopo un bel po' di episodi, anche grazie all'aiuto di Nami che scatena la pioggia, ammorbidendo i biscotti e permettendo a Ruffi di farsi una scorpacciata di soldati. E con la pancia piena e diventato ormai un obeso come quelli di vite al limite, inventarsi una nuova ridicola e gommosissima trasformazione e spazzare via il nemico a chilometri di distanza. Nel frattempo Sanji ha scoperto che la fabbrica dei cloni ha aperto giù in città. Ok lasciamo perdere. E questo dà la scusa per far partire un altro suo flashback. Quello vero, quello lungo. Oddio me senti brividi. Poi Ruffi riesce a raggiungerlo, ma Sanji si rifiuta di tornare nella ciurma, parla davvero stronzo e rinnega gli amici. Sì insomma fa la solita manfrina alla quale ci hanno già abituato. L'aveva fatta a Usop, l'aveva fatta a Nico Robin, ora tocca a Sanji, che addirittura colpisce Ruffi in piena faccia con un calcio infuocato. E il mongommoso che cosa fa? Nulla. Sta lì a incassare calci senza fare niente. E anche se ormai perde più sangue dal naso di un simp cinquantenne giapponese alla Bergamo Sex, si ostina ad aspettare l'amico che se ne va in lacrime. E la drammaticità si impenna. Non è vero perché tanto è palese che anche lui tornerà all'ovile a breve. Quando Big Mom scopre che uno dei suoi generali è stato sconfitto, le viene una sindrome premestruale importante, anche se teoricamente sarebbe già in menopausa. E sguinzaglia contro Ruffi il suo esercito, in cui c'è uno fatto di panna liquida, infiammabile, contro ogni legge della fisica e della logica. Una pallida spadaccina sadica, inquietante, con strane tendenze sessuali. Uno spaventapasseri che può trasportare e imprigionare le persone nei libri. E un tizio che ha la lingua più lunga di Selvaggia Lucarelli. Insomma, gente simpatica. E Ruffi dopo moltissimo tempo ne busca proprio tante. Così lui e Nami vengono imprigionati. Ma questo solo perché Sanji precedentemente aveva chiesto a Big Mom di risparmiare loro la vita accettando il matrimonio con sua figlia. Poi scopriranno proprio da Pudding che Sanji si è innamorato di lei per davvero. Perciò ha cambiato idea e intende sposarla. Lei però non lo sposerà. In che senso? Ah, non lo so io. Pedro combatte Tamago. E Brooke stende soldati con la sua musica infernale. Ma proprio mentre si trova il cospetto del Poigny Griff dovrà coraggiosamente vedersela con Big Mom. E mi sa tanto che son cavoli suoi. Anche perché poi lei deciderà di farne un suo ninnolo. Verrà poi salvato dagli amici mentre la cicciona dorme. Ed era perfino riuscito a copiare il Poigny Griff. Ma allora è un grande sto mucchietto di ossa narcolettico. Nel frattempo scopriamo che la tenera Pudding non è proprio quel pezzo di pane di ragazza che ci volevano far credere. Anzi è proprio un pezzo di me... Al contrario sembra una psicotica borderline con doppia personalità e un terzo occhio cipitale. Boh. Tanto che il suo matrimonio con Sanji si rivela essere tutta una farsa. Una burla. E il suo scopo sarebbe ucciderlo. E con lui sterminare tutta la sua famiglia. Per far sì che sua madre possa impossessarsi dell'esercito di cloni dei Germa. E così il povero Sanji scopre che sta per sposare una pazza psicopatica. Tranquillo bro. Non sei certo l'unico al mondo. E c'è rimasto talmente sotto per la cosa che è convinto di poter accendere una sigaretta sotto la pioggia scrosciante. Deve essere un demente. Inoltre Pudding ha mangiato il frutto Memo Memo. E quindi può estrapolare i ricordi dalla memoria della gente e anche manipolarli. Per questo può permettersi di spifferare tutti i suoi piani in anticipo alle vittime. Tanto poi gli manipola il ricordo. Sarà pazza ma almeno non è totalmente idiota come gli altri cattivi degli anime. A salvare Rufi e Nami arriva Tosto Gimbe che colpisce l'uomo di sperma. Di panna. E vabbè più o meno è uguale. Così Cappello di Paglia può andare a fare il culo a qualche soldato e a qualche miniboss. Sconfiggendo nell'ordine i fratelli Bitorsolo, Cadenza e Cavalletta. Ma avendola peggio su Counter. Poiché è estremamente esausto ed affamato. Ma scusate ma le due tonnellate di biscotti che si era appena mangiato quella mattina? Già evaporati? Che metabolismo ha? E dopo aver passato un episodio e mezzo a prenderle e a darle. Più a prenderle. Ecco che arriva Sanji con la merenda. E Rufi se la pappa tutta nonostante sia una schifezza rivoltante e immonda infradiciata dalla pioggia. Rimettendosi in forze. Sanji così gli spiega come mai non può apporsi al matrimonio. Ma Rufi ovviamente non capisce un cazzo e lo colpisce. Così il cuoco è costretto ad ammettere finalmente fra i lacrimoni che ciò che desidera davvero è ritornare nella ciurma. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato proprio. Oh esattamente come gli altri. Tutto uguale. Andiamo bene. Ma all'orizzonte si profila una nuova minaccia. Il secondo genito generale di Big Mom. Ma parrebbe che non sia ancora tempo per lui. Prima la ciurma riunita assieme a Jimbe tutta ben vestita e azzimata dovrà incontrarsi in segreto con Capone. Per via di un intrigo che non vi sto a spiegare. Anche lui vuole uccidere Big Mom. Così prima litigano ma poi trovano un accordo sul come collaborare per farla fuori. Perciò i parenti di Sanji, i figli di Big Mom, la foto di madre Caramel e tutti gli altri invitati si radunano al castello per la cerimonia del tè che precede il matrimonio. Questo tizio mi sembra sempre più misterioso. Sanji deve interpretare la parte di quello che non sa niente e al momento del bacio fra gli sposi Pudding dovrebbe sparargli ma non se la sente più perché lui trova il suo terzo occhio attraente. Deve essere un demente. Katakuri, il fratello della sposa, cerca di assassinarle il marito sparando una caramella proiettile ma Sanji la schiva e sul più bello in ritardo. Arrivano Rufi e gli altri a creare scompiglio e distruggere la torta nuziale. Sanji quindi ne approfitta per scappare via con la moglie, probabilmente per andare a consumare. Dovrà invece vedersela con la sua psicopatologia e per fortuna la sua anche mira di merda che gli spara 12-13 colpi a distanza ravvicinata e la avesse beccato di strisce una volta. Ma dovrà anche affrontare un genio della lampada controllato da uno dei suoi più ridicoli cognati. La cicciona ovviamente va fuori di testa ma per la torta distrutta eh mica per altro. Rufi l'attacca ma viene fermato da Katakuri allora Jimbe lo salva e ne approfitta per ammutinare ufficialmente Big Mom e unirsi alla ciurma di cappello di paglia. Colpo di Shenona. L'imperatrice allora cerca di strappagli l'anima ma non ci riesce perché lui non ha nemmeno una caccolina di paura di lei. Brooke quindi riesce a distruggere la foto della tizia importantissima per mamma e lei va in tilt. Così ci penserà suo figlio Katakuri che a quanto pare ha sviluppato l'acchi della percezione al punto di prevedere l'immediato futuro e deve aver visto delle cose che non gli sono piaciute tanto. Inoltre è perfino immune ai proiettili perché ha mangiato il frutto mochi mochi che gli consente di produrre, controllare e trasformare il proprio corpo in mochi. Una pasta di riso morbida e appiccicosa che può essere usata anche per bloccare le persone. E ci risiamo. L'abbiamo già visto mille volte questo potere. E Mr. Free con la sua candela poteva creare un fluido denso e appiccicoso capace di solidificarsi e imprigionare. E Caribou col suo pantano anche quello era un fluido fangoso e appiccicoso e poteva imprigionare le cose e inglobarle. E Treble col frutto colla colla produceva un muco prensile appiccicoso anch'esso usato per immobilizzare. Due coglioni così grandi Anche se bloccato, Rufy si allunga e riesce comunque a mostrare la foto distrutta a Big Mom. La quale chiaramente va fuori di testa completamente e inizia a strillare scatenando un'energia potentissima. Talmente potente da far partire l'assolutamente non richiesto flashback sul suo passato. Sono veramente euforico. Ma questo credo che sia meglio vederlo nella prossima super avvincente parte del riassunto. Mando quindi un caro saluto a tutti i miei patrons e do il benvenuto fra i cavalieri d'argento a Carlo1992. Grazie a tutti per il supporto. Siccome mi vorrei comprare qualcosa di carino per casa mia, che ne so, un comodino di design, vorrei assolutamente vendere la mia collezione di manga di One Piece. E quindi, offerta speciale solo per questo mese, la vendo a 490 euro. Spese di spedizione comprese. Affarone. Dai, fatemi comprare sto cacchio di comodino di design senza dover intaccare il mio conto in banca. Grazie per aver seguito fino a qui e ciao a tutti.